accadono delle cose bellissime stasera tanto volevo ha acceso un fuoco volevo mostrare il tuo disco il tuo lavoro registrato appunto dal vivo dicevo prima alla Beatles sì abbiamo fatto una cosa vuol dire cantato e suonato live suonato live abbiamo fatto una cosa appunto come si faceva una volta a dieci musicisti tutti insieme la volontà era proprio quella di provare a fare una fotografia questo grande viaggio che abbiamo fatto viaggio fatto appunto di concerti e tantissimi concerti anche in giro per il mondo e queste canzoni qui sono quelle che si sono trasformate un po di più proprio arrivando a un contatto con un pubblico anche con i luoghi ogni luogo suona in maniera diversa anche questo studio questa sera ci ha trasmesso delle sensazioni e noi abbiamo provato a suonare anche le sensazioni questo album prova a raccontare questa cosa qui senti sono passati già dieci anni dal tuo esordio sul palco con te con me 2014 2014 sì Babilonia Sanremo te lo ricordi ancora l'emozione di quel momento guarda lì mamma mia è uguale è uguale no non sono e me lo ricordo molto bene mi ricordo una tensione sai quest'anno quando sono andato al festival mi sono detto te la devi godere devi stare tranquillo sereno no no ansia e vai lì e prova a goderti ogni momento e perché ricordavo tutte io ricordo la tensione e l'ansia di tutte le volte in cui sono seduto sul festival a partire proprio da questa qui che è la prima stanno hai portato al festival con jack savoretti hai portato amore che vieni amore che vai sì una delle più belle canzoni insomma difficile farla classifica una canzone di fabrizio di andrea è una bellissima canzone di fabrizio di andrea abbiamo l'audio possiamo sentire un attimo da un mese tra un anno scordatele avrai amore che vieni da me fuggirai mamma mia è un pezzo no volevo dire che è contenuto anche in ho acceso un fuoco amore che vieni amore che vai anche cucurucu paloma è registrato sì nella versione originale proprio quella la canzone messicana del 54 credo una ovviamente una una mia interpretazione di quel capolavoro lì perché sai quando sono andato in spagna a suonare mi sono detto mi piacerebbe fare una canzone in spagnolo quale facciamo quale facciamo alla fine abbiamo fatto un arrangiamento lì abbastanza improvvisato a madrid e era venuta talmente bene che abbiamo detto vabbè mettiamola anche in questo album senti sei per la terza volta candidato ai davidi donatello per la miglior canzone originale per con il brano la mia terra che era contenuto nel film la palazzina laff avevi già vinto un david con con che vita meravigliosa per con ospite un conferzan sì questa è una candidatura a cui tengo tanto perché arriva a come una collaborazione con un fratello una persona con cui lottiamo da da tanti anni per la nostra terra appunto per taranto e michele riondino che ha fatto un film splendido veramente consiglio a tutti di cercarlo e andarlo a vedere perché è davvero un film bellissimo e la sua opera prima da regista ed è questa una canzone che finalmente mi ha messo un po' anche spalle al muro e mi ha costretto a parlare del mio rapporto anche con questa città con con quella terra lì che condivido poi con michele e proprio da bari partirà tra l'altro in autunno alla puglia il tuo tour anzi parte a settembre il 28 settembre al teatro moderno di grosseto ma dal primo ottobre sarai a bari e poi il 2 ottobre a lecce quindi petruzzelli e il politeama poi sarai a mestre a milano roma napoli civita nuova marche pescara sisi palermo tutto questo in ottobre ma ne parleremo spero anche in ottobre prossimo ecco tornerai a trovarsi se vuoi molto molto grande piacere per intanto ci ti aggiungi al nostro tavolo volentieri